Per la prima volta un ex comandante dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, è stato giudicato colpevoli di crimini di guerra dal Tribunale Speciale dell'AIA. Salim Mustafa è stato condannato a 26 anni per aver ucciso un serb e per aver torturato altre persone. La giudice olandese Mappi Feldfoglia ha definito il caso una pietra migliare che potrebbe migliorare la riconciliazione. Sembra esserci un malinteso sul fatto che queste accuse siano state mosse contro l'esercito di liberazione del Kosovo in quanto tale o contro il popolo del Kosovo nel suo insieme. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. È stato il popolo del Kosovo attraverso il Parlamento che ha scelto di creare e dare potere alla nostra istituzione. Salim Mustafa è stato processato nei Paesi Bassi dopo il suo arresto due anni fa. Nel 1999 era stato comandante di una struttura dell'UCK dove erano detenuti i serbi. Anche l'ex presidente del Kosovo Hashim Tace è in attesa di processo all'AIA con l'accusa di crimini di guerra.